La posizione di partenza è con i piedi distanti l'uno dall'altro in una stance sumo e un manubrio in mano. Da questa posizione fai una cosciata completa su una gamba mentre l'altra rimane distesa in stretching. Ritorna a distribuire il peso del corpo su entrambe le gambe mentre fai una transizione verso l'altra gamba. In questo caso è la gamba prima piegata ad essere completamente distesa in stretching. Ripeti il movimento di nuovo sulla prima gamba e poi la seconda ripetendo per il numero di ripetizioni previste dal programma.